Ho una domanda per tutti voi. Come si fanno fuori? Come si fanno fuori gli elefanti? Cioè, guardateli, ne abbiamo di tutti i tipi, di tutte le razze. Non esistono solamente gli elefanti da combattimento, gli elefanti da guerra, vedete? Ci sono gli elefanti da combattimento elite, quelli normali, quelli da guerra, quelli da guerra elite. Insomma, ce ne sono un po', vedete? E abbiamo anche quelli a lunga cittata, se non lo sapete. Sì, perché sì, ragazzi, ci sono gli elefanti con balista. E quelli qua, i nostri elefanti, sono tutti grandi, giovani, forti e anche davvero potentissimi. Cioè, come facciamo a buttare giù questi colossi di ciccia? Ebbene, molti di voi prendono i persiani appunto perché hanno questa fortissima unità. Oppure gli indiani, ragazzi, oppure anche i vietnamiti hanno gli elefanti. Come facciamo a contrastarli? C'è una strategia? Perché tutti si ostinano a prendere questi dannati elefanti? Cioè, posso fargliela pagare al mio amico che ha osato attaccarmi con dieci elefanti? Oh sì, che si possono contrastare. Tutto si può contrastare in age. Parte la sigla e iniziamo subito a dire le cose come stanno. Prima cosa che dovete sapere. Allora, gli elefanti, ragazzi, non vengono dati esattamente gratis. Costano gli elefanti. Quindi, il primo tips che vi devo dare per contrastare un elefante e non dare respiro al vostro avversario. Se voi arrivate già all'undicesimo-dodicesimo minuto, a rompere le scatole al centro città del vostro avversario, iniziate a uccidergli qualche buon uomo, iniziate, insomma, a far valere la vostra presenza sin da subito, beh, scoprirete che radunare 150 o 200 di cibo, passare all'età dei castelli, oppure creare tanti elefanti non è una cosa facile. Anzi, è molto, molto, molto difficile. E questo, essenzialmente, è il consiglio più rapido ed efficace per contrastarli. E cioè, evitate che il vostro avversario possa creare elefanti. Ma forse voi non siete molto veloci, forse voi avete delle partite molto lunghe, forse voi tendete a restare dietro a delle mura. Ed ecco che il vostro avversario, mollechella, mollechella, facciamo finta che abbia tutti questi elefanti, che in questo caso sono 9, e voi vi chiedete, porca miseria, con 9 mi sdruma il deretano. Secondo voi, quali sono le truppe perfette per contrastare questi elefanti? Beh, iniziamo subito da un'unità davvero molto, molto cheap, che si chiama, dove sta? Che si chiama, ragazzi, dicevo, picchiere. Eccolo qua, in tutta la sua beltà, in tutta la sua incredibile bellezza. Sappiate una cosa, ragazzi, questa viene considerata come una trash unit, cioè un'unità davvero molto cheap, in fin dei conti, ragazzi, costa poco cibo e molto meno oro, in fin dei conti ne costa legname, rispetto, appunto, all'elefante. Per cui, la cosa giusta da fare sarebbe, per ogni elefante che noi andiamo a incontrare, ok, il quantitativo di risorse che noi andiamo a mettere, dovrebbe essere intorno a ogni elefante, 4 bellissimi picchieri. Ragazzi, dico picchieri perché la picca inizia già a essere interessante, è un bonus contro gli elefanti, è più resistente, ha un pochetto più di vita, ha uno più di attacco, senza poi considerare, ragazzi, il fattore, quello più importante, e cioè dei potenziamenti. e per quanto abbiamo detto che sono 9 elefanti, potremmo fare anche 10, la giusta proporzione sarebbe 4 picche per ogni elefante, e andiamo a vedere cosa succede. Ed eccoci qua, ragazzi, nella bolgia del momento, dove improvvisamente non ho fatto proprio in tempo a fare niente. Giuro, non ho avuto tempo di fare nulla. Questi non sono picchieri ultra potenziati, ragazzi. No, eh, state ben attenti. Questi sono semplici picche. Sono 31, quindi i cavalli ne hanno fatti fuori essenzialmente 5 di persone. Eppure, ragazzi, avete visto come 10 cavalli di diverso tipo sono stati distrutti in 4 secondi. No, non ci credo, no, non ci credo. Ebbene sì, ragazzi, credeteci. Gli elefanti che fino a qualche secondo fa sembravano i dominatori di questo scontro, beh, si sono ritrovati a dar da mangiare ai vermi. Ed è qui, ragazzi, che iniziano le cose a farsi interessanti, no? Gli elefanti che prima sembravano così imbattibili in realtà adesso non lo sono così tanto. Ma forse voi potrete dire Eh, vabbè, ma Luca, ma ne hai messi... ma ne hai messi 4 di picche contro un solo elefante. Eppure, ragazzi, beh, iniziate a fare il calcolo. Cioè, una picca costa relativamente poco, costa intorno ai 35-40 dispende dalla civiltà, dipende dal bonus, dipende da tante cose. E sì, costa anche in aggiornamento. Ma qui, ragazzi, abbiamo sia elefanti normali, sia elefanti elite. Abbiamo elefanti da combattimento. Insomma, questa è gente che picchia davvero molto, molto forte. Eppure, ragazzi, le persone capaci di fare il culo a paiolo a questi signori non sono finite perché ora abbiamo loro, i monaci. Ne ho fatti 6, eccoli qua. Ne ho fatti 9. E voi potrete dire No, beh, non possono vincere. Effettivamente non possono vincere. In un scontro corpo a corpo, credetemi, non possono vincere. Ve lo dico, in un campo così aperto il vostro uomo verrà senza, senza ombra di dubbio distrutto. Ma, state ben attenti perché dietro un muro la situazione si fa leggermente diversa. Anche qui, ragazzi, ci sono molte cose da dire e cioè bisognerebbe avere una micro esageratamente buona, bisognerebbe assolutissimamente in qualche modo selezionare ogni monaco che ogni monaco va di uno per ogni elefante e come avrete capito non è una cosa esattamente facile ma improvvisamente ai 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 di quei nuovi elefantini io qua di nove monaci ne ho perso solamente uno benvenuto caro monaco mentre ho guadagnato ben cinque incredibili e meravigliosi cinque meravigliosi unità questo ragazzi lo si potrebbe fare in una partita dove magari abbiamo qualche bestia solitaria che gira in fin dei conti guardatela è una bestia estremamente grossa estremamente come posso dire poco mobile ed ecco qui che grazie a un nove digitata cioè nove di conversione del monaco beh ragazzi io posso iniziare a convertire una truppa da qui e per qua guardate questo è un elefante da guerra elite ancora più lento e potentissimo ma ora che arriva qui ragazzi beh ce ne vuole di tempo ed ecco qui che arrivano i grandissimi monaci ve l'ho già detto è una truppa troppo sottovalutata ma è anche una truppa che se giocata al meglio contro delle bestie che potremmo definire stupide da il cento per cento soprattutto per tutti quelli che non hanno evoluto alcune tecnologie come ad esempio la fede beh utilizzare i monaci per curare e convertire le truppe nemiche è essenzialmente la strategia più al bacio che potete fare e avete visto solo una truppa persa e anche cinque truppe cinque elefanti convertiti cioè che dire abbiamo già trovato una seconda truppa in grado di aiutarvi cosa non da poco certo mettere dei monaci dietro ad un muro è stato sicuramente una forzatura e tutti voi potrete dire ah ma non succederà mai oh sì ragazzi che succede vedo molte partite in cui gli elefanti scorrazzano in giro liberamente non sono in gruppo non sono cogiuvati oppure li lanciate contro i monaci e quindi è molto probabile che un monaco sia adeguatamente seguito dentro fuori dalle mure e tutto quanto riesca anche durante un assedio a convertirvi più di qualche incredibile di qualche incredibile elefante ma non ne finite qui perché che voi ci crediate o no scusate ok ecco qua abbiamo altre truppe davvero molto forti guardateli eccoli qua questi sono i cammelli i cammelli in fiamme ne ho fatti otto questi sono nove e i cammelli in fiamme sono una truppa davvero nuova e molto anche divertente che ho visto in qualche nuova civiltà e sono adatti appunto a farsi saltare in aria contro appunto gli elefanti vediamo cosa succede 9v9 ebbene amici ecco qua andiamo con i nostri cammellini in fiamme e vediamo che cosa sta succedendo l'esplosione come vedete comprende prende un raggio davvero enorme enorme ragazzi e sopravvissuto solo un elefante e sopravvissuto solo un elefante e alcuni di voi potrebbero dire ma no ma ero un no ne sono sopravvissuti due scusate ragazzi ne era sopravvissuto uno ne sono sopravvissuti quindi ne abbiamo fatti fuori sette e voi potrete dire questo è un tanto uno scontro pari non è uno scontro alla pari perché come vi ho già detto gli elefanti sono molto cari mentre i cammelli non sono cari come un elefante per cui la proporzione giusta da dover utilizzare dove è il cammello in fiamme dovrebbe essere questa uno due tre quattro cinque sei sette otto nove avete capito bene sono diciotto cammelli contro nove elefanti questo vuol dire una proporzione di uno a due e con questi ragazzi state pur tranquillo che non ci sarà nessuno in grado di resistervi avete visto prima con nove che ne abbiamo fatti praticamente fuori quasi tutti beh immaginatevi adesso con 18 credo che non non resterà neppure una zanna di questi elefanti non voglio comunque voglio comunque andare avanti perché c'è un'altra truppa eccola qua sapevo io che c'era un'altra bellissima truppa che merita di essere citata nella vostra guerra contro gli elefanti eccolo qui signori e lui è il cammeliere mettiamo un cammeliere corazzato ragazzi perché fa sempre grande bellezza questo perché ragazzi il no ho messo cammeliere imperiali scusate e un cammeliere corazzato ah ok ok qua avevo messo un cammeliere singolo che andiamo a mettere qua dietro quindi relativamente ragazzi anche qui abbiamo una truppa che rispetto al costo di un elefante beh è molto più cheap e potete ottenerla molto più velocemente utilizzando molte meno risorse e anche l'upgrade da cammeliere a cammeliere corazzato a chi ha poi la possibilità utilizzare in cammeliere imperiale beh scoprirete che è davvero molto molto forte questa è essenzialmente non potrete mai avere una formazione del genere mi sembra ovvio ragazzi ma io sono disposto tranquillamente a dire facciamo un 9 v9 e vediamo quanti elefanti tendono a sopravvivere i cammeli sono sempre stata una truppa molto sottovalutata da molti moltissimi di voi e davvero faccio davvero fatica a comprendere del perché eppure ragazzi sappiate una cosa il loro costo e la loro incredibile velocità è qualcosa di estremamente estremamente importante effettivamente vedete che sono scusate utilizziamo un piccolo trucco eccolo qui ok effettivamente vedete che si sono sopravvissuti 6 elefanti ma ancora una volta ragazzi vi ricordo una cosa molto importante e cioè le proporzioni del costo non può essere mai una proporzione 1 a 1 ma deve essere una proporzione del quanto costa un elefante quanto mi costano quanto mi costa un cammello scoprirete anche in questo caso che la proporzione giusta non è 1 a 1 ma è bensì 2 a 1 eccola qui la proporzione giusta non c'è nulla da dire proviamo subito lo scenario e sono molto molto sicuro che questi nuovi elefanti un po' ragazzi si comprendo sono un po' di razza mista c'è un po' di tutto qua e vedrete che le proporzioni vi aiutano vi aiutano a capire davvero tanto vi aiutano a capire quanto andate a spendere e vi aiutano a capire che voilà e badate bene questi sono cammelli normali con un paio di aiuti di cammelli imperiali e badate bene ancora una volta non sono stati potenziati ok e scoprirete che improvvisamente oh mio dio ci sono anche avanzati dei cammelli per uccidere il nostro amico persiano che ci ha osato rompere le scatole ebbene sì possiamo fare anche questo i cammelli sono molto molto forti e lo sono anche i mammelucchi ultimi ma non ultimi per importanza abbiamo davvero tante truppe speciali che forse alcuni di voi non lo sanno ma sono davvero molto 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 forte come ad esempio il balistriere genovese unità speciale italiana guardatelo ne mettiamo essenzialmente tre dai facciamo ne mettiamo tre mettiamo poi ragazzi abbiamo detto i mammelucchi scusate devo andarli a scegliere in mezzo a questo a popò di gente ecco qui voilà e guardate bene tutte queste unità costano meno di un elefante e poi abbiamo l'unità speciale degli inca ed eccolo qua terza unità che vi consiglio caldamente è il camajuc questa ragazzi è un'unità che non conosco molto ma che sicuramente merita il vostro interesse e fa parte della civiltà degli inca e sono proprio curioso di vedere come attacca queste sono tutte unità speciali ragazzi di primo livello non potenziate eppure io sono sicuro che già queste poche unità quindi un 1v1 di proporzione potrebbe già regalarci qualche buona morte di qualche particolare uggiante elefante proviamo subito eccoli qua ragazzi stanno già attaccando e voglio essere sincero sì sebbene i camanciuc i camanfruc i famanciuc siano già andati giù o beh diciamo che non se lo sono cavate male certo i balisteri italiani ragazzi se lasciati così un po' alla come viene viene è chiaro che vengono buttati giù tranquillamente ma di 9 unità scelte che avevamo fatto con una proporzione di 1 a 1 sono rimasti solamente 5 elefanti oh mio dio adesso capite cosa sto dicendo e cioè se noi andiamo ad aumentare e facciamo le proporzioni giuste per ogni singolo mammelucco e ogni mammelucco ragazzi costerà sicuramente meno di un elefante e quindi due mammelucchi costano come un elefante io dico perfetto vediamo vediamo cosa succede se aumento il quantitativo di truppe a mia disposizione sono sicuro che la vittoria per i nostri amici persiani non sarà così scontata e voilà mettiamo no non faccio una proporzione a 2 faccio qualcosa di leggermente diverso ma sono sicuro che comunque potrei riuscire a vincere sono molto molto sicuro eccoli qua con una proporzione non esattamente 2 a 1 io adesso sono curioso di vedere che cosa ci regalano queste truppe speciali contro altre truppe speciali e sono molto guardate che forti che sono le truppe speciali degli Inca tirano davvero delle bastonate allucinanti poi ragazzi i balestrieri genovesi non sono così forti ma sicuramente contro degli elefanti oh mio dio si che fanno davvero molto male ed ecco qua tutti insieme appassionatamente e ragazzi avevamo messo in campo appena 15 truppe ne sono sopravvissute ben 9 con davvero anche tanta tanta vita avete capito quindi di come i persiani si siano incredibilmente potenti ma non imbattibili hanno davvero tanti punti deboli sono essenzialmente delle bestie lente sono essenzialmente delle bestie molto costose e ci sono fior fior di civiltà adatte a appunto darvi un vantaggio contro questi bestioni spero quindi che questo video vi sia piaciuto io adesso faccio un'ultima grande cosa e cioè tiro via un po' di elefanti mettiamo metto amici un po' di elefanti dall'altra parte e ci gustiamo un'ultima grande rissa con un bel po' di elefanti da combattimento elite contro qualche altra bella truppina e noi ragazzi se siete curiosi di qualche altra civiltà volete scoprire c'è qualche truppa che vi dà noia beh fatemelo sapere nei commenti e naturalmente in un prossimo video andremo ad analizzare come far fuori quelli che tanto vi rompono le scazzole et voilà non è esattamente una proporzione 2 a 1 ma voglio proprio vedere cosa succederà scrivete nei commenti che cosa e poi noi ci vediamo in un prossimo mega video ciao ma intanto schiacciamo prova per poco davvero molto poco Grazie.